No, 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 altri acquirenti non ci saranno. Ma chi vuoi che si prenda quel vecchio rudere stifoso per 3 milioni di euro? Ma vuoi capire che ci hanno staccato la spina? Ma lei lo sa quanto montano i costi delle pensioni di questi cari vecchietti? E suppongo molto. E non pensi che abbattermi farebbe bene a tutti noi? E poi ci vogliono separare. A questo punto, basta! Io devo vincere! Vuoi camminare un po'? Ma tanto non puoi. Prima ci liberiamo della zavorra, meglio è. Tu mi devi aiutare, devi venire qua. Se le cose vanno bene, ci becchiamo i quattrini. Se le cose vanno male, ci becchiamo qualche anno di galera o una pallottola in fronte. Questo non ci piace. Qua verranno criminali veri, internazionali. E che cosa si vende? Tutta roba rubata. Io dico sì! Sarà divertente! Ma dove arrivano tutti questi soldi? 110 milioni e 1, 110 milioni e 2, 110 milioni e 3. Evviva! Non c'è tutto come quando mi sei!